Con Milan Koci ci abbiamo sentito prima Andrea l'autore del gol ora te l'autore dell'assist sulle gol che ha deciso la partita. Sì ho fatto assist per Andre ma comunque penso che è stata una bella azione anche prima per essere messo una grande palla e poi ho messo una palla dentro dove era Andre e ha fatto gol quindi tutti contenti. Una bella azione corale conclusa al meglio forse la Clevense di inizio anno questa azione di questo tipo di cose non la faceva ora si vede che siete più in fiducia che vi trovate di più che il gruppo più affiatato no? Ma sì secondo me si vede anche che ci sono risultati poi magari all'inizio non ci conoscevamo tutti ma adesso stiamo bene giochiamo da squadra e quindi ci divertiamo e quindi è normale che le cose escono. E poi vincere poi questi scontri diretti da anche più autostima tutta la squadra? Certo certo è una cosa molto importante tipo vincere contro queste squadre peccato perché non abbiamo portato niente a casa contro Ponte San Pietro però purtroppo così funziona il calcio. E adesso altre quattro finali? Adesso quattro finali sì prima è a Piacenza andiamo di là ma alla fine loro sono primi noi siamo in età classifica quindi ci prepariamo prepariamo bene e andiamo lì a fare bene. Perfetto grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti. Grazie.